sei pronta ma hai visto la sfida che abbiamo questa settimana con clara è forte forte giovane dinamica e anche molto brava guardate chi mica violetta e martina aspetta perché però pronto martina bene guarda sono in un intervista si hai saputo della sfida grande sfida a volevi dire vota per noi ma dai no povera e carina clara ha detto che vuol votare per noi beh guarda ti ringrazio è perché si la zia non andavano molto d'accordo a vabbè guarda ti devo lasciare perché comunque devo finire l'intervista grazie martina era grazie grazie a violetta ragazzi che vota per noi ma vi rendete conto ma fantastico però 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 non dimentichiamo una cosa sarà una grande sfida perché clara patina molto bene è molto 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 forte al televoto con tutti questi giorni ma adesso che abbiamo violetta da parte nostra dobbiamo patinare bene ciao a tutti